Hanno ricevuto un bel mazzo di fiori, ma soprattutto una busta, leggera ma importante, un contributo per far fronte alle loro necessità quotidiane. L'hanno accolta con sorrisi e gratitudine le tre signore, scelte fra le anziani indigenti residenti nella circoscrizione di Santo Maso in Verona. Sono loro le fruitrici del contributo che ogni anno viene assegnato per volontà testamentaria del pittore Angelo Dall'Oca Bianca. Dall'anno scorso l'assessore Bertacco ha portato il contributo da 600 a 1000 euro. Noi rispettiamo quella che era stata l'eredità Dall'Oca, che quindi ancora al tempo voleva che fossero destinate un contributo alle tre signore più in difficoltà del quartiere. E quindi noi ogni anno facciamo questo tipo di, chiamiamola di cerimonia, ma soprattutto di aiuto in un momento di particolare difficoltà per le famiglie, ma soprattutto per queste persone che normalmente sono persone anziane in difficoltà. Quindi il rispetto totale dell'eredità, ma soprattutto la risposta a un bisogno. Il sussidio, destinato ai poveri della città di Verona, è soltanto una delle opere di beneficenza predisposte dal noto artista veronese, pittore premiato in Italia e all'estero. Originario di Zevio, di famiglia umile, Dall'Oca lasciò tutti i suoi averi alla città di Verona e ai suoi poveri. Un'occasione per parlare dei poveri, delle persone in difficoltà in questa stagione così difficile. Che dati ha il Comune di Verona, l'assessorato ai servizi sociali, in questi mesi? Ma in questi mesi la cosa che ci preoccupa di più è quella che continuiamo a rimarcare, che è quella delle nuove povertà. Di fatto c'è una fascia della popolazione, soprattutto quella anziana, che fino a poco tempo fa poteva dirsi comunque in una situazione di tranquillità, che invece oggi fa fatica ad arrivare alla fine del mese. Le famiglie aumentano le famiglie che non ce la fanno? Sì, ci sono sicuramente situazioni di difficoltà particolari, un'altra emergenza che sicuramente sta emergendo è quella degli sfratti, quindi la difficoltà anche a poter pagare l'affitto. Noi abbiamo continuato con il contributo affitti, lo stiamo facendo anche sostenendo in alcuni casi i momenti di difficoltà delle famiglie.